Tutto pronto per i saldi invernali, che prenderanno il via domani mattina. La spesa media prevista è di circa 130 euro per ogni spezzino, ma i tanti rincari potrebbero portare ad una riduzione del budget. Secondo le previsioni di Feder Consumatori, il caro bollette e l'inflazione faranno sì che la percentuale di famiglie che andrà a caccia degli sconti sarà in diminuzione rispetto allo scorso anno. In città i negozianti stanno allestendo le mostre delle vetrine, in cui compariranno i cartellini con le riduzioni. Dovrà essere ben visibile il prezzo originale accanto a quello scontato, garanzia di trasparenza. Oltre a questa regola fondamentale è lasciata la discrezionalità del negoziante, la prova del capo e la possibilità di effettuare un cambio, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. La speranza degli esercenti è quello di incrementare le vendite, facendo spazio nei magazzini per le nuove collezioni. Per i clienti, naturalmente, il sogno è quello di fare l'affare, di acquistare a un prezzo stracciato quel capo tanto agognato ma inavvicinabile a prezzo pieno.